Sono impressionanti le immagini della conferenza stampa del governo cinese a Wuhan per diffondere le ultime novità sul virus. Tutti con la mascherina per timore di contrarre la malattia. E le ultime notizie non sono rassicuranti. Si può essere contagiosi prima di sapere di essere ammalati e di avere sintomi come tosse, febbre e starnuti. Infatti la malattia si trasmette anche durante l'incubazione e il periodo è variabile anche un solo giorno. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha appena decretato che per il virus il rischio è alto a livello globale e che nei precedenti rapporti c'è stato un errore di formulazione. Un caso sospetto è stato segnalato anche in Africa, in costa d'Avorio. Ci sono anche 50 italiani bloccati a Wuhan nella città chiusa. La loro situazione è tranquilla. Dovranno andare in osservazione per 14 giorni in un ospedale e poi potranno rientrare nel nostro paese con un piano di evacuazione che sta predisponendo il governo per evitare i contagi. Il Ministero della Sanità ha predisposto una task force e un numero verde, 1500, per l'emergenza e ottenere informazioni. Secondo gli ultimi dati, in Cina sono morte 80 persone. I casi confermati sono oltre 2700. La maggior parte è a Wuhan e nel Hubei, che circonda la città. Dieci sono segnalati tra Hong Kong, Macao e Taiwan. La Cina sta per diventare una nazione chiusa. Scuole e università si fermeranno a Pechino e Hong Kong per due settimane almeno, dopo la fine delle vacanze del Capodanno cinese. Centinaia di milioni di cinesi ormai vivono con la mascherina, mentre sono stati sospesi tutti i tour di gruppo anche all'estero. Annullate le celebrazioni del Capodanno a Parigi, Milano e Roma. Washington sta mandando un charter per evacuare gli americani di Wuhan. Si preparano Tokyo e Parigi. Atterrato a Roma l'ultimo volo, partito dalla cittadina incriminata. Da adesso non arriveranno più.